Ciao a tutti, oggi prepareremo gli involtini golosi ai funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono fettine di suino, fettine di scamorza, speck, vino bianco, olio, acqua, dado vegetale bimbi, funghi, sale, pepe e aglio. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando gli involtini. Mettere una fettina su un tagliere, mettere mezza fettina di speck, il formaggio ed arrotolare. Fermare con uno stuzzicadenti e proseguire così per tutto il resto delle fettine. Mettere nel boccale l'olio e l'aglio ed azionare il bimbi per 4 minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'aglio dal boccale e aggiungere i funghi ed azionare il bimbi per 5 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft senza misurino mettere nel boccale gli involtini adagiandoli sulle lame e aggiungere l'acqua e aggiungere l'acqua ed azionare il bimbi per 20 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft togliere dal boccale togliere dal boccale gli involtini lasciando il liquido di cottura nel boccale abbiamo tolto gli involtini adesso lasciamo addensare e ad azionare il bimbi per 10 minuti temperatura varoma anti-orario velocità soft senza misurino la salsa è pronta servire involtini golosi ai funghi grazie e alla prossima ricetta grazie Grazie per la visione!